Io vi prometto che sarà ripetibile per quanto riguarda la vittoria dello Scudetto. Certo, abbiamo sempre detto che non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno. Perché per vincere uno Scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse. E anche i giocatori, seppur non cambiati, non rispondono sempre nella stessa maniera. Il senso di appagamento, il senso di frustrazione, certe volte perché dalle famiglie arrivano dei messaggi di irrequietezza. Problemi di rafforzamento anche delle altre squadre, perché non crediate che poi uno il campionato lo giochi da solo. E quindi, voglio dire, avete visto anche come si siano rafforzati ormai anche in Europa. L'altro anno noi abbiamo avuto anche la fortuna di trovare alcune squadre in Europa che anche nel loro campionato, non so, un Liverpool che di solito era primissimo, è arrivato quinto se ben ricordo. Quindi, voglio dire, abbiamo avuto dalla nostra parte, dalla parte di un grande allenatore come Spalletti, anche quel pizzico di fortuna che nella vita ci vuole sempre. Perché se non c'è quel pizzico di fortuna, poi le combinazioni difficilmente riescono così in maniera straordinaria come il grande comandante che abbiamo avuto, Luciano, ha saputo infondere.